La scala di uno a dieci E di rispondere istintivamente Va bene Pronta? Pronta Otto Con quale frequenza avete rapporti sessuali? Non capisco la domanda Sì, mi sono perso Anche questa è una domanda da uno a dieci Per esempio questa settimana? Compreso il weekend? Esatto Descrivete come vi siete conosciuti Envy Is a sign of admiration Hate Is the epitome of destruction Tal parece Que mi amor crece y crece Pero tu desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despacio Reprimido ardiendo por los celos Ter, ma ti conosci quella ragazza solo da sei settimane Sono innamorato E' in gamba E' sexy E' disinibita Iplotizzante Complicata E' la donna più dolce che abbia mai conosciuto Gli do sei mesi di vita a questa storia al massimo Eddie Gli ho chiesto di sposarmi E' la donna più dolce che abbia mai 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 Grazie a tutti 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 Amore Amore Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti